Momenti di paura nella notte fra sabato e domenica ad Adrano per un ingendio divambato all'interno di un garage in via diritta del fanciullo in una palazzina del quartiere Cappellone. In fiamme un camion adibito alla vendita del pesce che solitamente sosta in piazza Saragat. Il mezzo che si trovava dentro il garage è stato distrutto dal fuoco. Il rogo si è sviluppato intorno alle 3. La fu riuscita di fuma ha svegliato i residenti ai piani superiori della palazzina che hanno fatto scattare subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano che hanno domato il rogo dopo un complesso intervento assieme ai colleghi provenienti da Maletto e quelli con l'autoscala da Catania. Sul posto anche i carabinieri che hanno condotto le indagini. A causare l'ingendio sarebbe stato un cortocircuito nella parte anteriore del mezzo. Quindi il rogo sarebbe di natura accidentale. Sul posto infatti non è stato trovato nessun elemento che possa far ipotizzare alte cause. E poi il grande portone in ferro del garage era chiuso al momento dell'incendio. Tesi del cortocircuito confermata dallo stesso proprietario Nicola Cancelliere. Questo camion era il mio piccolo orgoglio, dice Nicola Cancelliere. Purtroppo è andata così. L'importante è che nessuno si sia fatto del male. Ci tengo a ringraziare i pompieri per il loro intervento e i carabinieri e tutti coloro che mi sono stati vicini. Le fiamme hanno danneggiato il soffitto del garage e vario materiale e i balconi.